Vieni, Signore, vieni! Vieni, Signore, vieni! Vieni, Signore, vieni! Mara Natà! Giunite, rallegratevi sempre nel Signore. Ve lo ripeto, rallegratevi, il Signore è vicino. Recita così l'antifona d'inizio di questa terza domenica di avvento. È un ripetuto invito alla gioia. Il Signore ormai è accanto e sta in mezzo a noi. Giovanni nel Vangelo ce lo indica questo Signore. Non sono io, dice a chi lo interrogava, non sono io il Cristo. Sono solo la voce che grita nel deserto, preparate la via del Signore. In mezzo a voi sta uno che ancora non conoscete e ce lo indica. Nella celebre pala di altare che sta nel museo di Colmar in Francia è raffigurato Giovanni Battista con un dito indice sproporzionato, teso a indicare il Cristo. Quel dito indice è un appello continuo a guardare il Cristo, a guardare per riconoscere, a guardare per accettare, a guardare per identificarsi. È il ruolo di ognuno di noi, di ogni uomo e donna che ha scelto di essere cristiano. È il ruolo del nostro additare Cristo ai nostri fratelli, con la vita, le scelte, il comportamento. Soprattutto, come ha fatto Giovanni nel Vangelo, non mettersi al centro dell'annuncio, non compiacersi né predicare se stessi, di non sostituirsi al Cristo o di fare spettacolo nel compiere il bene. Essere, cioè, solo segno e strumento. Essere quel dito che indica solo ed esclusivamente la persona di Cristo. Vieni, Signore, vieni. Vieni, Signore, vieni. Vieni, Signore, vieni.